E niente, così male, si inizia male Benvenuti e bentornati a tutti i membri di questa ciurma Bentornati nel nostro piccolo club pirata La nostra barcaccia che naviga sulle acque disagiate anche qui su Twitch E quest'oggi niente, buh, quest'oggi così si suda Oh mamma mia ragazzi, fa un caldo boia Però oggi il caldo ce lo prendiamo in compagnia Ho invitato ancora una volta qui su questo palco A reggere con noi la scena, diciamo, hardcore animale In un'epoca in cui gli animali erano estremamente hardcore Mr. J, benvenuto Abbiamo chiamato qui il parente lontano dei dinosauri Il signor Willy Guastino, che è zostato Ciao compare, benvenuti e bentornati Ciao a tutti, ciao chat Ma chi è che te la fa la presentazione così, dimmelo Bah, nessuno, per fortuna Foglia, benvenuta Comunque ragazzi, fa veramente caldo E per provarvi questo Vi farò vedere una cosa che non è assolutamente richiesta Cioè i miei pantaloni Prima della live mi sono levato i pantaloni Willy, sappilo Volevo che tu lo sapessi Penso che è una cosa a cui tieni molto Nino Nononano, benvenuto Eniei, come va a te? Tu sei fresco lì nella giungla A quanto pare Ma guarda, in realtà ho messo per immedesimarmi meglio E' una foresta del carbonifero Quando c'era questi livelli di ottimismo Valti alla norma Quindi insomma, diciamo Calarvi un po' nella parte Ma come dicevo prima Non è che fa troppissimo caldo dentro casa Quindi sono abbastanza contento Però io Il problema mio sono le zanzare Le zanzare del carbonifero Guarda che facciano male Bestie No, io più che altro Il discorso è che Vivendo in una mansarda Ah beh Cioè io amo il caldo Amo proprio tantissimo il caldo E' il mio computer che non lo ama Capito? Erna Hervis, benvenuto Erna Hervis, benvenuto Oli live è come stare in compagnia di amici Grazie Barbascura Ma grazie a voi di unirvi a questa Scampagnata tra amici Che poi è quello il discorso E quella è la cosa che mi piacerebbe ottenere E niente, come avete visto Meno meno, come avevo annunciato Io ho chiamato il signor Willy Perché nelle live che sta facendo sul suo canale Twitch Ricordiamo che Willy ha un canale Twitch Ha fatto vedere talvolta Dei video Che io Di cui non sapevo l'esistenza Cioè io So che c'è gente che dice cose strane su internet Ma di questa roba Io me li ero perso C'è gente che dice che i dinosauri non sono mai esistiti Ok Diciamo che Sobox gravissimo Benvenuto anche a te Comunque mi ho dimenticato di dirti Che mi sono messo il cappello di Albano Appostamente per te Non so se hai notato Grazie E niente Che io avesse avuto dei rapporti in passato con gente Che pensava O che era convinta che i dinosauri non fossero mai esistiti Si sa, è risaputo L'ho anche documentato Street Sui Benvenuto Ad esempio Quando dai al convegno dei terapiattisti Ci avevamo Albino Albino era fortemente convinto Che i dinosauri proprio non esistevano I dinosauri erano i giganti Zakkos Benvenuto E niente Perché si basava sulle osservazioni della Bibbia Che afferma che la Terra in realtà è molto più giovane Rispetto a quanto dicono i scienziati Perché si sono calcolate Grazie alle generazioni riportate nella Bibbia Quanto effettivamente dovrebbe essere antica la Terra E quindi risulterebbe non più antica di qualche migliaio di anni 4.000 anni se non era qualcosa del genere 6.000 e qualcosa 6.000 e qualcosa Quindi non potrebbe mai essere Non hai un lasso di tempo sufficiente per giustificare Questa differenza Nella biologia e nella fauna E soprattutto quelli che troviamo non sono semplicemente dei giganti Ma sono dei giganti di epoca antidiluviana Quindi questi mostri antidiluviani Che ricordiamo essere dei mostri generati da dei demoni caduti dal paradiso Dal cielo Che si erano accoppiate con donne fedifraghe o comunque Malsane che abitavano la Terra Le eredi proprio di Eva che aveva mangiato il frutto proibito E che quindi avevano originato questi mostri terrificanti Che erano morti durante il diluvio universale Quindi tutto torna Direi che è perfettamente sensato Scarm grazie Oh terzo mese grandissimo Che poi in realtà ci sono alcuni lettori della Bibbia Credenti che in realtà Dicono che i dinosauri nella Bibbia ci sono Quindi anche lì dipende da chi è Perché alcuni mostri della Bibbia Tipo Bemoth Qualcuno ci ha visto dei sauropodi E il fatto che dei dinosauri si parli nella Bibbia È anche un discorso che è legittima per così dire la creazione Perché dicessi che i dinosauri sono esistiti E ne parla anche la Bibbia Quindi nel senso vuol dire che anche loro sono parte della creazione In qualche modo la confermano Del grande disegno Esatto In qualche modo poi ci sono quelli Che poi dicono che invece non La Bibbia Cioè i dinosauri non sono mai esistiti E che sono una prova falsa Che gli scienziati hanno messo lì Per dare sostegno in la teoria dell'evoluzione E screditare il creazionismo Quindi dipende anche dal tipo di frangia creazionista Che si considera il rapporto almeno ai dinosauri C'è chi dice sì sì C'erano Cioè tranquillamente Ne parla anche la Bibbia C'è chi dice no non sono mai esistiti C'è chi dice erano giganti eccetera C'è anche chi dice tranquillamente Che magari crede E dice sì sì ma è ovvio che la Bibbia Non va presa alla lettera E quindi c'è stata l'evoluzione C'è stata la successione Delle varie forme viventi Ci sono stati anche i dinosauri Tranquillamente Quindi insomma Non non E questo Rendiamo credito diciamo Eh rendiamo giustizia Comunque ci sono anche Anche persone che credono E nonostante questo Non hanno alcun problema Ad ammettere che ci sia stata Nell'evoluzione dei dinosauri Ma certo certo Lo sottolineo sempre Anche perché di recente L'abbiamo attraversato questo Avevo parlato proprio di queste cose Io ne approfitto per Un secondo salutare Foxo è uomo della pizza Per Stasi Unite E per Pommeli Che mi dice che Ha superato l'esame Ho appena fatto l'esame Complimenti compare Comunque sì insomma Però è vero anche un discorso Forse lo avevamo fatto già insieme In un'altra occasione Che loro si fanno forte Comunque di un'affermazione Che è vera Cioè molto spesso nel passato I fossili dei dinosauri Erano stati ricostruiti male E avevano preso Dei resti di uno Dei resti dell'altro E li avevano messi insieme Appiccicandoli così A cazzo di cane Quindi avevano creato Questi esemplari Che in realtà Non erano Diciamo Scientificamente accurati Scientificamente corretti Però erano i più accurati Che potessimo produrre Certo anche perché I primi resti di dinosauri Classificati proprio Dalla scienza Sono appunto Megalosaurus Ma c'era veramente Pochi resti di Megalosaurus Al tempo Quindi si parla del 1824 Iguanodon Che tra l'altro è Il dinosaurio protagonista Della mia tesi 1825 Ileosaurus Anni 30 dell'800 E comunque Si parla di resti Veramente scarni Quindi Ora fanno Diciamo un po' strano A vederle Le raffigurazioni Dei dinosauri Di quel periodo Però è chiaro che Al tempo Non potevano fare Diversamente I dati che avevano Al tempo Erano le migliori Ricostruzioni possibili Poi Quando hanno trovato I primi scheletri completi Che erano Iguanodonti Allora hanno cominciato Un pochino meglio A capire Per esempio Il corno Sul naso Non era un corno Ma era una spina Sul pollice Per esempio Ah ecco Potevano fare Loro Paolo Inve A morte i panda Sempre Comunque si Che figata Cioè Più che altro Avevo visto Molto spesso Riportare Tra di loro Nei loro gruppi Io sono Nei loro gruppi Capiamoci Non intervengo mai Proprio li seguo Come si segue Scientificamente Una comunità Testranea Per capirne I comportamenti Il Linguaggio E comunque Niente Uno dei meme Che gira moltissimo Su quelle pagine E ad esempio Guardate Hanno trovato Un fossile Una Che era Un tallone Ricostruiamo Il dinosaure E quindi Fanno vedere Che In teoria Gli scienziati Ricostruivano L'intero esemplare Partendo da Quel Ossicino No E come fanno A ricostruire L'intero esemplare Partendo da Quell'ossicino Ma fatemi Il piacere Come fanno A volte lo fanno Questa cosa Ma lo fanno Perché magari Di quel gruppo Di dinosauri Ne hanno uno Più completo Magari intero E si basano Appunto su quello Che non è Necessariamente Fatto bene Perché ovviamente Tra specie E specie Da famiglia A famiglia Possono cambiare Anche all'interno Proprio dello stesso Genero Della stessa famiglia Le proporzioni Quindi Non è chiaramente Una cosa Che Ti dà La certezza Di aver fatto Un buon lavoro Però con i dati Che hai in mano È il lavoro migliore Che puoi fare Nel senso Anche perché Gli scheletri Di dinosauri Completi esistono Che se ne dica Ma come vedremo Poi nel video Anche questa cosa va Però ogni tanto Cambiano Questo è affascinante Cioè io sono Ad alcuni musei Dove praticamente I fossili Che ho visto Sono ormai post datati Devono completamente Riparli da zero Questo è vero Eh sì Senza considerare Che poi Mi vabbè Io impiscio sempre Sotto di risate Quando Mi capita di Leggere delle vignette Di zero calcare E lui è Incazzatissimo Con l'evoluzione Che hanno preso I dinosauri L'evoluzione Stilistica Che ha coinvolto I dinosauri C'è Una delle vignette Che aveva fatto Nell'ultimo libro A scuola di pizza In faccia Non so se ne hai letto C'è lui Da anziano Che parla Con Un suo giovane Nipotino Che ha Un dinosauro Clonato Quindi finalmente Hanno clonato I dinosauri Però è un Dinosauro Tipo velociraptor Con le piume Sostanzialmente No Quindi lui dice Nella vignetta Dice una cosa Tipo Leva Quella cosa Schifosa Con le piume Quello non è un Dinosauro Quello è un pollo Incazzatissimo In realtà Io sono molto contento Di sta cosa Perché alla fine Se ti piacciono i dinosauri Secondo me Qualsiasi Dato in più Che ti aiuta a capire Meglio Come erano fatti davvero È da prendere La bacia verte Se no Non ti piacciono i dinosauri Non ti piacciono i dinosauri Ma ti piace l'idea Che ti sei fatto Del dinosaurio E beh Sì Ovviamente lui La battuta Ricadeva tutto In Jurassic Park Nel fatto che tu sei cresciuto Con un'immagine Con il dinosauro figo Che era un rettilone Eccetera Poi te lo vedi trasformato In un pollo grande E ci rimani male Che poi la gente Pensa sempre al pollo grande E dice sempre Che ah Ma i dinosauri Con le piume Non fanno paura Le persone Che fanno sto discorso Non hanno mai visto Cacciare un'aquila No Evidentemente Non vivono vicino I gabbiani È sufficiente Il gabbiano Fa molto più paura Di un'aquila Cioè il gabbiano È il male È la creatura Più infernale Che sia mai stata creata Il gabbiano È assurdo Quando vedi un'aquila Che riesce a uccidere Un lupo Con gli artigli Cioè ragazzi Boh Nel senso Va bene E gli uccelli Sono dinosauri Quindi Guarda fammi vedere Se riesco a recuperarlo Proprio oggi Avevo visto il video Di quest'aquila Che aveva Tipo Che ti è successo Willy Lì sei sparito Ovviamente Mi si è chiusa La serranda E devo fare Un'operazione Con le stampelle Per poterla Ritirare Perché Ok ok Non ti preoccupare Comunque Praticamente avevo visto Questo Ecco Voi ti faccio vedere È un Un'aquila Che praticamente Afferra un In realtà qua Dico Ah Condor Eagle Che non so che Esemprare sia In realtà Aspetta ti faccio la condivisione Dello schermo E Ti sembra che stai Navigando Con quella stampa Eh si no Un po' strano Però è tornata la luce Allora Yes Cioè in pratica Qua c'è il Condor Eagle E quello che ha afferrato È un Cazzo di squalo Non so se riesci a vedere Cioè ha afferrato Uno squaletto E gli fa fare Una passeggiata Poi non siamo sicuri Che sia La preda Forse È un gesto d'amore Nei suoi confronti Forse è un Non so Volere far vedere Il mondo dall'alto Capito Riesci a vedere Willy Sì sì Riesca a vedere Aspetta Giant Condor Eagle Aspetta Aspetta Perché Carling Shark Ecco Qua lo vedi bene E Oggi tra l'altro Ho visto Non so perché oggi Mi sono visto un sacco di video Su Aquile Quindi non so perché è uscito il discorso Che c'è quest'Aquila Che tipo Non vuole volare Quindi cammina come un cane E non vuole nemmeno cacciare A cui davano degli anni Dei Delle prede vive E lui si rifiutava di mangiare O anche di guardarle Voleva soltanto i pezzettini Di Di cibo Tipo se Se quella la selezione La fa riprodurre Hai fatto il nuovo animale domestico Aquila Faceva vedere pure Che non Afferrava minimamente Il Il braccio Di chi lo reggeva Con gli artigli Ma che era Tipo Aveva la presa Da Da pappagallo Stranissimo Comunque Vabbè niente Era soltanto per farti vedere Stranissimo Stato Però non l'avevo vista Eh io Sono un Un corollario Di Di video Del cazzo Cioè perché Ti conosco tutti Praticamente Se un video Hai un video del cazzo Io Fidati che l'ho visto Comunque Che stavo dicendo Aspetta Un casino Aspetta un po' Ti sta suonando tutto in casa Ti avviso Si sta suonando il telefono Pazienza Comunque Se a te fanno schifo Le aquile Cioè o meglio Se a te fanno Pensi che facciano paura Le aquile Che afferrano Le prede Anche grosse Le ammazzano Quant'altro A me fanno schifo I gabbiani Che ingoiano i conigli Per intero O i pellicani Che ingoiano i cosi Eh ma anche i gabbiani Lo fanno Porca puttana I pellicani ingoiano Ok ma il pellicano Lo capisci da solo Che quell'affare Che c'è in faccia Serve per quello Ma un gabbiano Non te lo aspetti Poi ti ritrovi Il gabbiano Che si ingoia Così gratuitamente Un Un Coniglietto Un piccione Morto Casomai E ci rimani male Vediamo se riesco a trovare Allora Diceva non era un condor Lo sto guardando un attimino Però Si chiama Condor Eagle Eh ma Condor Eagle Io non so cosa sia Non lo conosco Come il nome Però non sembra Un condor Eh infatti Deve essere una giovane Aquila Aquila Di mare Dalla testa bianca Quello che state vedendo qui È un simpatico Gabbiano Che mangia I conigli E lo ingoia Per intero Guardate che bello Nicola Silvestri Benvenuto Eh questo È brutto Non gli aquile Questo è brutto Raga Questo è trauma Guardatelo Si sta strozzando Tra Eh niente Avete imparato Una cosa brutta Sempre qui Sul mamma mia Guardarla Che schifezza Mamma Ma che cazzo Proprio Si dicevano in chat Che stavano prendendo Il posto dei piccioni Nelle città Si a volte si mangiano Proprio i piccioni Sono effettivamente I loro nemici naturali Cioè non naturali Però voglio dire Sono Li stanno rimpiazzando Perché effettivamente Sono molto più Adattabili Anche dei piccioni Barbazeusso Grazie mille Cioè nel senso che I gabbiani Possono mangiare I piccioni morti Ma anche i topi morti Vabbè si mangiano E non sono morti Io ho visto un video Di un piccione Di un Gabbiano Che praticamente Entra in un negozio Con le porte Scorrevoli Si aprono Entra Ruba un pacchetto Di patatine E se ne va Scorrevoli Senza fare niente Senza volare Ma tranquillo Come se fosse a casa sua Bellissimo Si 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 vabbè Sono anche un pochino Forse più intelligente I piccioni in realtà Non sono stupidi Tra l'altro Winkert Gli uccelli in generale Gli uccelli sono abbastanza smart Però vabbè Il discorso è che È vero che li stanno Rimpiazzando Ve lo posso dire io Perché tranquillamente A Roma adesso Siamo invasi Dai gabbiani Tra l'altro Gabbiani Vi ripeto Fanno paura Cioè io c'ho La Come si chiama Il lucernario Mi capita Delle volte Di guardare in alto E c'ho un cazzo Di piccione Che mi guarda Di gabbiano Che mi guarda Ed è brutto Pirata 5G Benvenuto Cioè raga È proprio brutto Un gabbiano Che ti guarda Mentre tu stai Stragliato sul divano A fare i cazzi tuoi Non è una cosa Bene Non si fa Cioè non lo dovrebbe fare Io chiederei Per favore Allora dai Io direi Possiamo vedere Il nostro video Quello che hai selezionato Per noi oggi Mi ringrazierete Mi ringrazierete O forse Ti ringrazierete Io ho come sempre Una discreta paura Ma Sono pronto al peggio Sono sicuro Che ci regalerà Grandi emozioni Attic Gaming Benvenuto Ehm Aspettate che Aggiusto un pochino La finestra Se ci riesco Ok Facciamo così Aleron Benvenuto anche a te Allora aspetta un secondo Dai Iniziamo questo video Occhio all'audio ragazzi Perché la parte è meglio Buongiorno e Benvenuti a Mundodesconsiduo.es Ma è italiano? So che il titolo del video Risperà molto Molto particolare E sorprendente Ma Aspetta un secondo Ma c'è un problema qua Allora Si chiama Mundodesconsiduo Quindi è spagnolo Dovrebbe Però è stato ricaricato Da un canale italiano Ed è stato ridoppiato Non so da chi Se è la proprietà del canale Eccetera E Però È un doppiaggio Molto strano Nel senso che Sembra neanche troppo italiano Cioè è un po' strano Sentite un po' Ma E non è Cioè manco Eppure palesemente Tantissimo Fori sync Tra l'altro Ma poco tanto Si si esatto 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 Vabbè Incredibile Dico qua Che voglio dare Un'opportunità A quello Che diremo Nei prossimi minuti Già Che c'è la sufficiente coerenza Per non solo Non essere sorprendente Ma anche Chissà Forse È una possibile realtà No Aspetta Allora A parte che Lui lo dice Analisi logica A parte che lui lo dice Con un'enfasi Che mio dio Pare che Che è morto E non se ne è accorto È morto Cioè i funghi addosso E non se ne è accorto Ma poi questa frase Che cazzo Voleva dire Cioè Da chi si è l'ha fatto tradurre Dal google translate L'intraduttore Quello automatico Se uno fa l'analisi logica Io sono in grado Io guarda Ci metto i sottotitoli I sottotitoli Generati automaticamente Vediamo cosa succede Sono curioso Comunque lui ha detto Non sarà una cosa sorprendente Però E poi Niente Si è perso Una possibile realtà Aspetta aspetta Torno indietro Perché chissà Forse Non solo Non essere sorprendente Ma anche Chissà Forse È una possibile realtà Cosa Va bene Prima di tutto Mi piacerebbe Dire Quello che Mi occorse Che allunga le parole Per Rientrare nel minutaggio Della famosa teoria Della sparizione Dei dinosauri Ho fatto un video Su questo Magari Lo indicheremo La fine Essenzialmente Quello che è successo Ma io dico Ma se vuoi Se vuoi doppiarlo Diciamo che si chiama Freebooting Comunque Io sono abbastanza sicuro Che comunque Lui non abbia i diritti Di ricaricare il video Di un altro canale Anche doppiandolo Però va bene Diciamo che Stai facendo un favore Alla società Condividendo un contenuto Che è indispensabile Che tutti Conoscano Anche persone Che non sono Non parlano Lo spagnolo Quindi vabbè Posso capire Playa vista Benvenuto È solo che Porca puttana Ti sei accorto Che non hai doppiato bene Rifarlo Cioè Rifare Ripeti dalla parte Non c'è niente di male Ripeti In che modo Gli è venuto in mente Di dire Ok Questo Ma questo piaggio Secondo me Vabbè È che un fisico Qualcuno Presta pochino Luis Walter Alvarez Proposa Fabio Carbo Benvenuto Che nel golfo del Messico Cadde un enorme meteorito Errore Errore Questo è un errore Allora Ha detto che c'è stato un fisico Che ha proposto Che si chiamava Walter Alvarez Piccola Piccola cosa Quello nella foto Io non credo sia Walter Ma credo sia Luis Alvarez Che è il padre di Walter Walter Praticamente Studiando la gola De Bottaccione A Gubbio Pensa un po' Lui cercava indizi Dell'inversione Del campo magnetico terrestre Ok Nei fossili Del Cretaceo E Praticamente si accorse C'era uno strato particolare Dove scomparivano Tutti i foraminiferi Che sono questi Piccoli organismi Marini Utilizzati Negli studi paleoecologici Di datazione Eccetera Tanti campi Di applicazione In paleontologia E praticamente disse Ma come mai scompaiono Studiamo bene Questo livello Dove scompaiono Vide che c'era Un sacco di iridio In più Che è un elemento chimico Che sulla crosta terrestre È raro Ma è abbondante Negli asteroidi E disse Ma sarà mica Che in questo livello qua Tutto questo iridio Ha origini extraterrestri Della serie Che ci è cascato Un asteroide sopra Cominciarono poi a studiare Sia lui Walter Che Subabbo Luis Che credo avesse anche vinto Walter era un geologo Luis era un fisico Che aveva vinto Anche un Nobel per la fisica Se non ricordo male Praticamente Cominciarono a studiare Questa cosa Ovviamente ci fu Un sacco di Di polemica Perché alla gente Non gli tornava Cominciarono a studiare Praticamente Altri livelli Della stessa età In zone del mondo E trovarono E effettivamente C'era questa cosa Ma Walter non disse mai Che è caduto Nel Golfo del Messio Anche perché Una delle più grandi critiche Che gli facevano Era Sì ok Bella teoria Ma il cratere Il cratere è stato trovato dopo Ok In particolar modo Se non mi ricordo male Lo studio che dice Quello probabilmente È il cratere Che appunto sta Nell'attuale Golfo del Messico Mezzo sommerso E mezzo no È uno studio Che è intorno Agli anni 90 Stavo fatto Stavo pubblicato Però ti posso far notare Una cosa Lui è sicuramente Più Convincente Di te Scusa Obiettivamente Ma Lui Ha detto delle cose Che erano Estremamente Convincenti Tu Mi vieni a dire Queste parolone Queste cose Qua Fai finta Che è studiato Lui invece Poi tra l'altro Col tono di voce Convincente Con cui diceva Quella è la cosa importante E io non ho fatto così Effettivamente Mentre parlavo Così E soprattutto Stavi prenderti Un po' più di tempo Tra una sillaba E l'altra Eh già Giusto Interessante Interessante Cercando di doppiarti E soprattutto Sei troppo in sync Quello è un problema Eh no Scusa Giantesco cratere Si chiama Chuklun Questo è un nome Cratere Ma che senso Lui si chiama Chuklun Chuklun Sarà un pokemon Il cratere Si chiama Il cratere Adesso un paesino E siamo aperto Cixlub E quindi Con questo ragazzi Ovviamente So che siete tutti Educati in chat Ma non andate Siccome ho visto C'è un sacco di insulti Sotto a quel video No no Non andate a insultare Ovviamente Anzi ragazzi Per disclaimer Ecco A massimo scrivete Viva il maestro Questo lo potete scrivere Solo questo Viva il maestro E' consentito Qualsiasi altro Insulto No Perché per me Questo è un maestro Di vita Però vedi Io sono affascinato Tanto queste persone Che dicono queste cose Anche quello che ha doppiato C'è sempre Un latente Pressapochismo Invidiabile C'è un pressapochismo Di Non lo so In tutto Capito Poi vedi questo Green screen Del tipo originale Che ha messo La fotografia Le cose varie No Con questo è Sempre poco curato Qua ci appare Una fotografia Che dovrebbe essere Il titolare del canale Chi è No Chi è questo Giorgio Dovebbe essere Luis Alvarez Quello Vabbè No Walter Tra l'alto Dall'altro Continuiamo Luis Alvarez Né più né meno Che 65 milioni Di anni Né più Né meno Che ci dicono Quando scomparvero I dinosauri Questa teoria Dei dinosauri Della scomparsa Per l'impatto Di un teorito Cominciò Cominciò a diventare L'impatto L'impatto di un teorito L'impatto di un dorito L'impatto di un teorico Ha tradotto Youtube Perché non sapendo In che senso Io me lo vedo Il traduttore automatico Di Youtube In palla Aspetta Aspetta Che cazzo è un teorito Vabbè La scena Nel medicientifici Si ritirò La teoria Anteriore Che diceva Che l'attività Vulcanica Aveva Distrutto Dinosauri E si cominciò A parlare Di questa teoria Che un enorme Meteorite Aveva Distrutto Dinosauri Però Apparve una donna Una donna E cui il nome Gertha Keller Mio dio Io guarda A parte che È faticosissimo Seguire cosa cazzo Sto dicendo Veramente super faticoso Ma poi se dovessimo Fare l'analisi logica Di cosa sta dicendo È terrificante E la teoria Allora Ha detto una cosa E così arrivò La teoria Io me lo immagino La teoria che arriva Ma poi Apparve una donna In che senso Io ho immaginato Capito Evangelion Un'enorme donna Dal cielo Che è apparsa Non lo so Stava minacciando La teoria Gertha Keller Bene Gertha Keller È una paleontologa Signora Alvarez È un fisico Questa è paleontologa E cominciò a investigare Su questo cratere Fece una serie Di Questa è una delle grandi Critiche che facevano Ad Alvarez Cioè ti sei un fisico Che cazzone sai Lascia ora A paleontologi Per E se giustamente Lui era un fisico Ha fatto La Keller Tra l'altro è una Che appunto Non so Si oppone Diciamo Al fatto che L'asteroide Quello lì Di Che club Abbia Fatto estinguere I dinosauri In realtà vi dico La cosa più aggiornata Al riguardo È uscita ierlaltro Ok All'altro Ierlaltro sera Ed è un paper Di Alessandro Chiarenza Che conosco È un dottorando Che appunto Parte anche Della società Di paleontologia Dei vertebrati Che ha praticamente In realtà L'alternativa qual era? Quella del vulcanesimo In realtà lui dice Addirittura il vulcanesimo Non ha causato L'estinzione Dei dinosauri Anzi Il vulcanesimo Ha addirittura Aiutato A tamponare Diciamo Gli effetti Di raffreddamento Globale Che ci sono stati Dopo l'impatto Del meteorite Ok Quindi I vulcani In realtà Hanno aiutato I dinosauri Sotto questo punto di vista Cosa Insomma Comunque Beh vabbè È leggermente diverso Mi stanno segnalando Che il canale spagnolo Ha 2,56 milioni Di iscritti Probabilmente abbiamo Sbagliato qualcosa Abbiamo sbagliato qualcosa Ha ragione lui Non c'è altra spiegazione No ma ha ragione lui Perché ha più iscritti di noi Quindi C'è Per ragione Mazz Vabbè Immagina Se però Il canale spagnolo Fosse stato doppiato così Ne avrebbe almeno Il doppio Degli iscritti Cioè io mi sarei iscritto E avrei Io spero davvero Che questo canale Abbi altri video Perché Mi addormenterò così Da Da oggi in poi Identificare l'era Gli anni dell'era Rita Keller Gerta Keller Scopri Ma cazzo hai sbagliato Ripeti là La frase Yuri Geller Sì Mio dio Cioè immagino pure Uno che è interessato Effettivamente A sta stronzata C'è Cazzo E' un'esperienza mistica Scopri Che Non ha 65 milioni di anni Che è l'epoca in cui Si spone Scomparve il dinosaurio Dice che questo cratere Si Produce al massimo 300 mila anni fa Bene Questa donna Presenta Le prove Le informazioni Tutta la comunità scientifica Dice Questa signora Non sa Quello che dice Non è Non è certo Perché Quello Ma quello che disse Fu un lavoro Molto esaustivo Cosa ha detto Cosa ha detto C'è una lattina Tipo qua Come microfono Non lo so Quanto è grosso No Quello è un microfono Che va molto di moda Adesso Lo usano tantissimi E della Se non erro E della road Tra l'altro E' pazzesco Però è orripilante Osceno Ma è gigante Sì E' una cosina Così grossa Che ti devi attaccare Alla giacca Comunque Lasciando stare Il microfono Io Non ho capito Un cazzo Di cosa ha detto Kira Kira è il benvenuto Cioè Io lo voglio risentire Questa cosa Perché è stata una cosa Allora Lei ha detto che Il dinosaurio Dice che Questo cratere Si produce Produce Al massimo Al massimo A 300 mila anni fa 300 mila anni fa Ok E tutta la comunità scientifica Nonostante il lavoro Lei aveva fatto Gli dissero No ho sbagliato Eh no Però quello che Arriva Da quello che dice lui Allora quella è la traduzione La tua Ok Che A cui possiamo giungere Con un po' di logica Esatto E sforzandoci Porti Parafrasi diciamo Risentiamo Cosa lui Ha detto Cosa lui Aveva cercato Di comunicarci Anni fa Bene Questa donna Presenta Le prove Le informazioni Tutta la comunità scientifica Dice Questa signora Non sa Quello che dice Non è Non è certo Perché quello Ma quello che disse Fu un lavoro Molto esaustivo Vabbè Vabbè Allora Sapendo cosa vuole dire Riusciamo a mettere insieme i puntini E riusciamo a capire Cosa Vabbè Dai Vabbè Non sono mai esistiti E il documento si Ok Il documento Quando abbia accesso a questa informazione La prima La prima cosa che feci Fu un sorriso Vediamo Cosa sta dicendo Questo Questo signore Per dire Cosa succede Per dire Per dire Per dire Quando invece abbiamo Di musei pieni di dinosauri Resti di dinosauri Ricostruzione di dinosauri Di film E i film sono Tra l'altro Una fonte attenzibile Cioè sono tra le fonti Attendibili In bibliografia Ci sono anche i film Cioè della serie Se ci sono i dinosauri Nei film Cioè è strano Capito Giustamente Le critiche Dello stato Cosa sta dicendo Questo Ci sono i film Sui dinosauri Dinosauri Deve essere A meno come king kong E godzilla Esatto Come sappiamo Però Mamma mia Che botta Ti giuro E' peggio della droga E' pesante E' pesante Una cosa incredibile Cioè E' un fiume in piena Quest'uovo Dinosauri In tutte le zuppe Tutte le zuppe Quindi Lidia Di un'opportunità Mi resi conto Che questo signore Stava raccontando Cose molto coerente E corrette Chissà Chissà Se veramente I grandi sauri Non sono mai esistiti Andiamo a vedere perché Il primo posto Le referenze A primi dinosauri Furono effettuati Effettuate Da un signore Un ser Inglese Che si chiamava Richard Owen Il amico Richard Owen E' sempre presente L'antirubianista La parola dinosauri L'ha inventata lui E beh certo Certo Io ne parlavo nel libro Di Richard Owen Perché tra l'altro Succede una cosa Estremamente ridicola Con Richard Owen Perché si creò La disputa Tra lui e Darwin Perché Darwin Era un evoluzionista Owen era Anti-evoluzionista Si Owen era Anti-evoluzionista La cosa Ridicola Che accadde Che è incredibilmente Attuale Se vuoi Che a un certo punto Apparre Su un giornale Importantissimo Inglese Un articolo Scritto Da un anonimo In cui diceva Questo articolo In pratica Richard Owen E' bravissimo Lui ne sa Un sacco Lui ha ragione Lui è bravo Eccetera Non come quel pirla Di Darwin Darwin è scemo Richard Owen E' grande Darwin è scemo Si scoprì Da lì a poco Che l'articolo Era di Richard Owen Si era scritto L'articolo Da solo Per dire Che lui era bravo E la cosa Drammatica E' che la stessa cosa Che è successo Proprio in questi giorni Penso un paio di giorni fa Non so se l'hai visto Con Si 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 Per quello diceva Attuale Si si Certo Che figura di me Eh si E' stato Di Donno Che l'ho fatto Di Donno Aveva scritto Praticamente Con un account fake Spacciandosi Per un Uno scienziato Non ricordo Americano Però Di Oxford forse Di cui nessuno Conosceva l'esistenza Eccetera Aveva detto Eh Di Donno E' un grandissimo scienziato Il suo merito Ah Il grandissimo Però nessuno conosceva Sto qua Quindi se vedete O alcuno Che dice tipo Parasaurolophus 91 Che dice Oh ma sto Zosparco Comunque Confidatevi Ecco Un barbascura XYX Che dice Barbascura è bravo Forse sono io E insomma Niente Alla fine Hanno scoperto Che era Di Donno Con un account fake Che si fingeva Questo professore Che si diceva Che Di Donno Era bravo Ecco vabbè Sì Owen Non è ricordato Diciamo Come la persona Più amabile del mondo Ha anche ragione Cioè era una persona Invidiosa Un arrampiatore sociale Ma guardalo in faccia Si vede da lontano Che è un rosicone Sembrava Sembrava Cosa Sembrava Scrooge Di Canto di Natale Era molto Insomma Ed erano E secondo me Sono pari come personaggi Perché Owen Ha inventato la parola Dinosauro Quindi 1 a 0 Per lui Però Scrooge È stato interpretato Da Paperone Quindi 1 a 1 Palla al centro Non saprei scegliere Insomma Michael Noon Benvenuto Però sì Owen Al di là Ovviamente Delle cose personali Eccetera Che ce ne sono Anche di Di cose divertenti Sul suo conto È comunque Stato un Anatomista Con i fiocchi E ha inventato Lui la parola Dinosauro Insomma Era ai tempi Uno dei massimi esperti In anatomia comparata E paleontologia Dei vertebrati Del suo periodo Il periodo Vittoriano Nonostante tutto Al di là di merito scientifico Ragazzi No no Infatti All'inizio tra l'altro Lui ha collaborato Con Darwin E lo ha aiutato tantissimo È stato grazie a lui Anche che Sono riusciti Un pochino A mettere i pezzi insieme Sono riusciti anche A capirci qualcosa Sì Alcune delle cose Dei fossili Di bradi Qui Cenozoici Aveva trovato Darwin In Sud America È vero Le aveva chiamati Megatherium Perché all'epoca Il Megatherium Era l'unico bradico Istinto noto E poi Richard Owen Li chiamò Li studiò Li battezzò Si accorse che erano Altre cose E addirittura Gli ha dato dei nomi Che tipo Glossoterium Eccetera Sono ancora validi A livello di gente Sì sì ma ci sono Quando stavo studiando I bradipi Tantissimi dei nomi Dei bradipi Li aveva proprio scelti lui Proprio anche quelli attuali Sì 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 E diversi sono ancora validi Senza considerare che Si trovano un sacco Cioè un sacco di animali australiani I nomi li ha dati proprio lui Non ricordo Sì anche Ai moa per esempio Tra gli uccelli elefanti Diciamo Speschiattari Benvenuta Ho benvenuto E niente Vabbè comunque niente Ha tirato in ballo Richard Owen Adesso siamo Tutto orecchi Vediamo un po' Sir inglese Che si chiamava Richard Owen Owen Era della Royal Society Nel 1842 Teorizza Sulla possibilità Che in un passato remoto Esistevano Fossino esistiti Grandi rettili Grandi animali rettili Ma non è che la teorizza Lui lo diceva Sir Richard Owen Riser Richard Owen La solità Figuratevi il destino Sembrò allearsi Con il signor Owen Cioè che 12 anni dopo Ferdinand Van Diver Aiden Trova In una spedizione Spedizione In Nord America Una serie Di denti sconosciuti Molto Molto rari Nessuno ha mai visto Mio dio E' difficilissimo Proprio capire il senso Di cosa sta dicendo Lo capiamo Mettendo insieme le cose Però è proprio Capito Mamma mia Ce la mette tutta Ce la mette proprio tutta Comunque vabbè Visto questi denti Denti del genere Ferdinando Decide di inviare Questi denti A un paleontologo Ok A Joseph Lady Quest'uomo Primo studioso Di dinosauri Sul suolo americano Ecco Eh ma diciamolo Che Lui ha detto comunque Che Richard Owen Ipotizzò Dell'esistenza Dei grandi rettili In realtà Che in realtà appunto Già di questo discorso Dei grandi rettili Se ne parlava Prima di Owen In realtà Hanno trovato La dentina Di mio nonno Scrivono i chat Oh c'è la Laura La madre dei draghi Oh ciao Laura Polinoto Benvenuto Io mi alleo Con il destino Come Richard Owens Owens E certo La S è importante Eh beh Annaccia Specie di sauro Chiamato Trachiodon Trachiodon Così come lo denomina Figurato No non lo denomina Così ma vabbè Vabbè dai Diciamo francamente Quindi non è la cosa più grave Che poi questo oggi No 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 Attaccarsi Anche perché Trachiodon Poi non è neanche un genere Ora considerato valido Però Sì Vabbè È il meno in realtà Eh vabbè Guardatevi Quando ricevete Questi Questa dentatura Questi denti Proprio così Era il dent Dinosauri Sì sì Suppostamente Dinosauri A partire dai denti Deggiudizio Suppostamente Dinosauri Suppostamente È veramente brutta Come parola Non so neanche Si può dire Suppostamente Non sono Però è veramente Brutta Che scelta strana Ricostruì Il Trachiodon Intero E Trachiodon È ormai il nome Sappio Non vera Anche perché Comunque Il Trachiodon È stato Del genere Trachiodon È stato Il primo Scheletro Parziale Di dinosauro Messo in posa In un museo Quello da cui È partita Diciamo La famosa Posa canguro Dei dinosauri Non era il più completo Perché poi dopo Furon trovati Negli anni 70 All'800 Li vengono Tutti a bernissare Però In realtà Non è che c'era un dente Dal dente Tiro fuori animale Anche perché Immaginarsi Un adrosauro Senza avere idea Che esistono gli adrosauri Da un dente Capite voi Non è che sia Bocca al lupo Dai Sei proprio forte Nella sua interezza Pertanto Le immagini Che abbiamo Di quest'animale Sono Essenzialmente Un'ipotesi È qualcosa È come Perché hanno Trovato solo il dente In sostanza E quindi Dal dente Dice Ma sai cos'è Secondo me È un dinosaurio Il becco d'anatra Ma si possono Domesticare I dinosauri Io sono sicuro Che se ce ne date uno Potremmo anche farlo Ci servono Giusto qualche generazione Giusto per selezionarli Così ce la facciamo Come se Trovate Pogli e piccioni E Tacchini E anatre Quindi presumo di sì Comunque Il pollo domestico È una pessima idea Fidatevi Perché Non so se lo sai In Olanda C'era una legge Che diceva Che tu potevi avere Dei polli A patto che fossero Di dimensioni piccole O meglio C'è un limite Nelle dimensioni Ok Quindi hanno fatto Una selezione Delle dimensioni Dei polli Ok E quindi Esistono in Olanda Questi polli Queste galline Che sono Molto nane Sono nane Sono molto più piccoli Rispetto alla norma Sono anche figli Tipo le galline Mugellesi italiane Sono piccoline Eh può essere Sono molto fighe Perché io ricordo Andavo a casa Di uno dei professori Che lavorava In Olanda E lui aveva Nel giardino Tutti questi polli E galline Tra l'altro Fighissime C'erano queste Piume Super iridescenti Molto Molto fighe Però erano piccoline Piccolissime E niente Quindi faccio Un micro Dinosauro Domestico Che insomma Che erano Rompicoglioni Sì comunque Le galline domestiche Erano belle Fin quando stavano Lontano Quando si avvicinavano Erano Un pochino Rompicoglioni Però sono belle Sì no Le galline Sono fighe Sono fighe Ma sì In fondo Sono fighe E che non le tenere In casa E che sto pensando Sto pensando Da tanto tempo Di prendermi una papera E sto valutando Ma cazzo Stupendo Io amo la papera Però voglio Farlo schiudere io L'uovo Quindi voglio prendere le uova E voglio far schiudere La papera Eh però bisogna sapere Perché È brutto Per i primi tre mesi Dal piccolo Non è facile Eh lo so I primi tre mesi È un lavoraccio Cioè devi stare Veramente sempre Infatti stavo pensando Chissà come sarà Andare tipo Non lo so Fare uno spettacolo E portarsi dietro La paperella Ti muovi sul palco E la paperella Che ti segue Si può fare Ma non ci devo pensare Non lo so Ehi aspetta Sto scherzando Che poi c'è gente Che mi prende sul serio Qua e dice Ah va 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 Non la porterei sul palco Però Tra il pubblico Tra il pubblico Al massimo Ecco ci tengo La mia paperella No Si schemi di socio Una candela Trovate una candela Di una macchina A partire da questa candela Siete capaci Di disegnare La carra La carra La carra Allora 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 Attenzione Qui doveva tradurre car Dovevi solo tradurre car Come cazzo hai fatto A fare uscire carra Eh perché è femminile Ma puttana Eva Oppure google translate Te lo tradurre carra Te lo traduce carra Come carra La carra La carra Mimbo Questo è proprio brutto Ma che cazzo Ma che cazzo Ma te lo fottuto Come se tu do La candela Rinustruisci la carra Cioè io ho capito Non conoscere L'inglese A livello di tradurre Perché è Per carità Magari questo qua Parla Oh scusami Lo spagnolo Lui parla Casomai spagnolo Molto veloce Non sappiamo come parla Quindi casomai Non riesce a tradurlo Perfettamente Una puttana Eva Carra Ci arrivi che è la macchina Ce l'ha pure disegnata qua È la macchina Cioè Vabbè La carra Beh questa Questa è l'idea Ferdinand Bandiver L'idea Insomma È questa La maggioranza Dei crani Che vedete nei musei Nei film Nei documentari Dei dinosauri Nei film Ricordiamo un'altra fonte Sono interpretazioni Non esistono Crani di dinosauri Mai vero Mai vero Ce ne sono molto pochi Completi Bello quel crani Se ci fosse un crani Del genere Comunque Di dinosauri Guarda Sarebbe spettacolare Sarebbe veramente bellissimo Mio dio Bellissimo Comunque si Boh Io credo che Quello che l'ha doppiato Comunque non sappia Nulla In pratica Ha soprattutto Copiato Cioè doppiato Quello che diceva Quest'altro signore Questo signore Si era documentato Diciamo così A modo suo Lui però Ha due milioni E cinquecento Mille iscritti E noi no Quindi ha ragione Poche Credo che non ce ne sono nessuno Essenzialmente Questa cosa è bellissima Tipo non esistono Crani di dinosauri O comunque Ce ne sono molto poche E molto poche Vuol dire che io credo Che non ce ne siano nessuno Questo è il discorso Ha fatto lui Poche idee Ma confuse Esatto Mio dio Bellissimo Bellissimo Che poi in realtà Ripeto Ma questo è oro Crani di dinosauro E comunque Ci sono anche Gli iscritti interi Posso dirlo Continuiamo Un cranio intero Per intenderci Essenzialmente Sono lavori artistici Ma come? Cioè lui dice Quindi Quelli che vediamo Sono stati fatti Da un artista Non sono crani Veri O basati Sulla Sulla realtà E però Molto spesso sono calchi Però perché sono calchi Comunque per avere il calco Deve avere l'originale In primis Questo deve essere chiaro Ma sono calchi Perché ovviamente A volte Le condizioni di esposizione Nel museo Davanti a tutta la gente Non sono compatibili Con la conservazione ottimale Del cranio E quindi Vengono conservati Perché appunto Si conservino Visto che non è che C'è tanti doppioni Queste poliziere Non ce n'è nessuno In un posto sicuro Nei magazzini Nel museo E viene fatto un calco E quello Viene restaurato Dipinto Ed esposto appunto Come replica Al pubblico Ma è una cosa Abbastanza chiara Però per avere il calco Deve avere l'originale E beh certo No anche perché Raga Insomma Per fare Immaginate di dover fare I buchi all'originale Per poterlo reggere Nell'impalcatura Bello A volte viene fatto Eh sì Però insomma Se tu ce ne hai pochi E decidi di Non lo so Mettere insieme I pochi pezzi che c'hai Casomai E anche le ricostruzioni Ma Magari gli costruisci La parte che manca Ne hai mezzo Quella gliela rifai Nel senso Però Ecco passa una cosa Cioè questo non sta Né in cielo Né in terra Nel senso Sono opere d'arte Di Bill Gates No Bill Gates È un'opera d'arte Sono stati degli artistici Che hanno interpretato Degli artistici Degli artistici Delicei Nel senso Ma mio Dio Mio Dio Non lo so Tutto ciò è bellissimo Effettuato Le forme De dinosauri Che abbiamo visto In molte occasioni Hanno effettuato Le forme Dei dinosauri Allora Quello che lui sta facendo vedere adesso Tra l'altro È lo schizzo Che ha fatto Mantel Cioè lo scopritore Del Liguano Donte Ed è fondamentale Lui non lo pubblicò Ma ufficialmente Credo risalga Intorno agli anni Agli anni 30 Dell'Ottocento E quello è la prima Ricostruzione Un po' Così Dell'aspetto generale Di un dinosauro Basato sullo scheletro Mai fatta Ok Però è ovvio Che Mantel Aveva due ossa In croce Del Liguano Donte Tant'è che Quel corno Che vi dicevo prima Che poi il pollice Lì si vede Che è un corno Beh certo Come mi piace Lo stile con cui Gli ha rifatto la testa Più o meno così Cioè io ci credo Se lo prendono in giro Scusami Guarda come gli hanno Disegnato la testa Scusami Che schizzo è quello Ma deve fare un po' Più di artistico Almeno in proporzioni Non si sa Lì per forza Non l'hanno riuscito bene C'avevano solo due ossi Ma sì Ma sto scherzando Sto dicendo Che se avessi visto Io il disegno del genere Sarebbe Sembrava Sai quando levi la testa Tua E i pupazzi Ce la metti tu Disegnata Cazzo di cazzo Realmente Come erano Perché nessuno Li ha visti Nessuno li ha incontrati E ha ragione E ha ragione Scacco matto Nessuno ha incontrato Un dinosauro Coppa E come fai Vabbè Bene Andiamo A parlare Dei denti Che permissero L'esplorazione Paleontologica Nel secolo XIX e XX Questa scoperta Il secolo XIX e XX Mamma mia Mamma mia Parliamo dei denti Mamma Parliamo dei denti Ma c'era questi denti Questa scoperta Stabidi Confermò La teoria Evolutiva Di Darwin I dinosauri Lo dimostrano Si diceva Però Serviamo questo dato Che Prima del secolo XIX Nessuna Civilizzazione umana Parlava Dei grandi ossi Di dinosauri Cosa non vera Ma Va bene Perché praticamente È ovvio che non parla Di dinosauri La parola dinosauro È nata Nel 1842 Addirittura I primi dinosauri Descritti Erano negli anni 20 e l'800 Megalosaurus E Guanodon Dopo Neanche quello Si parlava di dinosauri Perché ovvio che non si può parlare Di Ma non avevano trovato i dinosauri Non li avevano trovati Solo che Nel senso Non puoi parlare Di Di questo tipo di cose In un'epoca Che è prescientifica Dove non esiste ancora La paleontologia omae scienza È chiaro Gli avevano trovati gli ossi Pensavano fossero altro Semplicemente Ossa di drago Ossa di gigante Eccetera Che poi in realtà Questo discorso è Particularmente vero Non tanto Con i fossili di dinosauri Quanto per i fossili Di megafauna Plistocenica Quindi elefanti Vivari eccetera Certo Ricordiamo che Nascevano un sacco di leggende Probabilmente Avevo visto proprio Con Lorenzo Rossi Che probabilmente È la stessa storia Della leggenda del ciclope Ad esempio Deriva da Semplicemente da Elefanti Di quel periodo Però sì Esistevano È solo che Ovviamente Immaginate quanto Doveva essere difficile Per una persona Dell'epoca Sapere O capire Che quell'osso Che è trovato nel terreno È di una specie estinta E non di qualcosa Che Ti appartiene Comunque vabbè Questo è il suo punto di vista Il problema è che Poi capito Se tu parli con queste persone qua Che credono in queste cose Questo è un punto di vista Quando per me è solo una stronzata No esatto Anche a volergli Ad essere completamente A mente aperta Davanti a queste cose Non torna proprio niente Proprio niente Nel senso Se prendi un dato E lo manipoli male Come ad arrivare a dire No ma non c'è nessuno Che parlava di dinosauri Per portare acqua Al tuo mulino È una fallacia logica Pazzesca Se tu mi dimostri In qualche modo Con dei dati Al massimo Che ci stiamo sbagliando Ben venga Altrimenti Non so Che class per dici Giganti sono esistiti Per davvero Mi scrivono Stubito troll Tendenzioso Hai ragione Scusate I Keller Vinciate Dice È come dire Nel medioevo Nessuno parlava di medioevo È esatto È la stessa cosa Esattamente la stessa cosa Non ci sono credenze Degli stessi Non ci sono Ah ricordiamo Scusatemi Che Stando alle ricostruzioni Di Albino Che lui credeva Nella non esistenza Di dinosauri In tutte queste cose qua Il medioevo Non è mai esistito Perché dato che La terra deve essere Vecchia Soltanto 6.000 anni Più o meno Non è possibile C'è C'è qualcosa Che non torna Quindi ci sono Mille anni Che sono stati Aggiunti E in questi Mille anni Rientra anche il medioevo Quindi attenzione Sono reliquie fossili Di nessun tipo E quando dico Nessuna civilizzazione Umana Mi riferisco A tutto il pianeta Essenzialmente I dinosauri Prima del secolo XIX Non esistevano Non ce n'erano All'imperazione Improvviso Ma nemmeno oggi ci sono Se vogliamo essere pignoli Aspettiamo la formazione Infatti Ma sai che goduria Quando li cloneranno Questi qua Che non saprano cosa dire Secondo me Non ci arriveranno mai Però insomma Non lo so Dammi abbastanza fondi Ci provo io Nel secolo XIX I dinosauri Cominciarono A venire fuori Come funghi Costantemente Da tutte le parti Porcini Per la precisione Furono scoperti Grandi Giacimenti Che non si conoscevano Prima I giacimenti Dinosauri I famosi Giacimenti In Sud America Li furono venduti Da dei tizi Che ce l'avevano Come soprammobili O un tizio Gli vendete Un esemplare completo Ora non ricordo Nel caso di Darwin Non dinosauri Ma penso fossero Più che altro Mammiferi Sì hai ragione Perché era un Sì era sempre uno Dei Bradipi Giganti In quel caso Hai ragione Però vabbè Insomma Però per dire Se uno lo trova Non sa che un dinosauro Se la porta in casa Non lo chiamerà mai Dinosauro Ovviamente Però la storia Comincia nel secolo XIX Quando Un paleontologo Due tipi Due paleontologi Che avevano Lego Ma io dico No Io non sono sicuro Che lui a questo punto Abbia il testo scritto No Sembra quasi Lo doppi Tipo In tempo reale Non so come dire Cioè Perché lui dice Un paleontone No Due Due tipe Cioè Boh Com'è Boh Vabbè Ok Due tipe Due tipe Ha detto no Molto esaltato Rivalizzarono a morte A chi Bologizzava Più articoli Su questi dinosauri E quando dico Che rivalizzavano a morte Eh cosa vuoi dire Dico Questi si ponevano Delle spie Si facevano Si frapponevano Delle spie Delle spie Cosa avrà voluto dire Eh Qui sta parlando Di Marsch e Coppe Della guerra delle ossa Eh sì Che se vi interessa Senza stare ovviamente A raccontare tutta la storia Ci ho fatto un video Sì l'avevi raccontato È una bella storia Già al di là di tutto Che ha bustato anche Le scoperte di fossili Nordamericani Di dinosauri E non solo Ma comunque insomma Ora dirà sicuramente Non ricordo Ma dirà sicuramente Che dicia Sono questi Che praticamente dal nulla Hanno cominciato a trovare fossili ovunque E hanno cominciato a far venire fuori sta roba Eccetera Come per dire Ah strano Che prima non c'era Sarà un discorso del genere Mi immagino Eh allora Lo vedi che Sei prevenuto Eh scusami Aspettiamo prima Di vedere Dove vuole andare a parare Perché sono sicuro Che ha senso Prego Che succesco Che Francesco Aspetta Ora e quando dico Che rivalizzavano a morte Rivalizzavano a morte Questi si ponevano delle spie Si facevano molti dispetti fra di loro Questi due tipi Si facevano i dispetti fra di loro Si mettevano la puntina sulla sedia Si facevano i dispetti fra di loro Ma proprio degli infami C'è una cosa terrificante Questi due tipi assicuravano di aver scoperto Erano naturisti Erano scienziati Naturisti Naturisti Non naturalisti Infatti YouTube Davano in giro gnodi YouTube l'ha tradotto come Erano turisti Perché ovviamente Esatto Erano naturisti Erano scienziati Assicurarono di aver scoperto 136 tipi di dinosauri Distinti Tra l'altro Ottniel è scritto male Ma vabbè Vabbè Distinti diversi Poi si scopri qualcosa di curioso Di questi 136 solamente Si provò 32 di loro Erano validi Restano falsificazioni No Semmai erano generi Che non erano validi Perché Nella voglia di Sovrastare l'altro A chi pubblicava più cose Magari Poi hanno scoperto Che avevano descritto tre specie In verità era solo una Perché minima variazione Ne avevano fatto Però A parte questo Scusa Stavo baciando Maria Ma Vabbè Io non mi soffermo Anco più Sull'analisi logica Anzi no Anzi no Questa la devo risentire Questa è bellissima Cioè Questa è proprio Questa è proprio Non lo so Ho avuto un mezzo orgasmo Non te lo so spiegare Una cosa Sei tipi di dinosauri Distinti Questi due signori Questi due signori Poi si scopri qualcosa Di curioso Di questi 136 Solamente Si provò 32 di Di loro Erano validi Restano falsificazioni Alla data di oggi Che succede oggi 2017 Non si è mai incontrato Un grande dinosauro E meno male In che senso Si è mai incontrato Un grande dinosauro completo Non ce ne sono Non sono mai stati trovati Falso Credo Quindi non sono mai stati trovati Secondo lui O i resti Di un grande dinosauro completo Falso Che non c'è nessun Quindi dico che non c'è nessun Dinosauro completo Ma se me lo dici così Io non ci credo In più Sul giacimenti c'è qualcosa di molto strano Veramente Quasi tutte le ossa Sono state venute fuori Da cave Focalizzate da punti concreti Qua Qui E in quest'altro Ma in che senso Non ce la faccio Focalizzati da punti completi Nel senso Qua Qui Punti concreti Aspetta Quella cartina è da aggiornare A parte Ma comunque sia Si spiega abbastanza facile Cioè lui dice Ah Perché se i dinosauri stavano in tutto il mondo Allora si trovano solo In alcuni giacimenti Solo in alcune parti del mondo E non in tutti Perché non tutti i giacimenti A livello fossile Sono appunto Nella stessa posizione In cui erano Durante il mesozoico Come sapete Le zolle si muovono E Questo è nel senso In particolar modo Per quanto riguarda i dinosauri Ci sono dei punti poi In cui Non li troviamo Ma magari c'erano Per il semplice fatto E magari lì Non si sono conservati Perché fossilizzarsi È un lavoraccio Nel senso Non va quasi mai a buon fine E quindi Cioè Un discorso Che lascia il tempo E trova Nel senso Non è che lui vuol dire Che praticamente i punti Se li sono inventati Perché dicono Ma dicono I dinosauri erano in tutto il mondo Ma allora perché Non ci trovano Non si trovano fossili Di dinosauri In tutto il mondo Questo è un motivo Nel senso Mi resta una frase bellissima Da dire Un giorno La reciterò così Proprio ai miei figli Sussurrandogli Dolcemente Tutte le ossa Sono state venute fuori Da cave Da cave Focalizzate Da punti concreti Tutte le ossa Sono state venute fuori Da cave Focalizzate Da punti Concreti Come fa un punto Ad essere concreti Come si fa Ah c'è una scuola Di punti Per diventare concrete Aspetta Voglio continuare Ma qui E in quest'altro In quest'altro scavo Quasi tutte le ossa Di dinosauri Cosa? Non si trovano Disseminati Per tutto il pianeta Ok E come se tutti Si siano concentrati In alcuni punti E restano il pianeta Niente Niente di più Ok Come si può sperare Come si può dire Che i sauri Regnarono sulla terra 65 milioni fa E quindi Sembra Che si trovano I loro resti Solo in alcuni Piccoli punti Mai in altri Siti Quindi lui Più che altro Sta dimostrando Che i sauri Non avevano Dominato la terra Siamo più forti noi Noi siamo ovunque Non i sauri Noi abbiamo vinto Gabbro benvenuto Cioè Alla fine è quello Il discorso Non è tanto una questione Capito di Eh si sono esistiti o no È una questione Di dignità Della specie umana Dovremmo essere noi A essere definiti I dominatori della terra Non questi dinosauri Che erano soltanto In pochi punti Concreti Perché? Perché Non si disseminarono Siccome Se qualcuno Stesse Falsificandoli Mettendoli In qualche punto Preciso Ok ok Ah chiaro Gli hanno messi là Ok ok Bene Mettiamoci Le mani in testa Ah In che senso Quando lo dico io Gli ha falsificati Questo lo dice L'investigatore Michel Holmes Che ha scritto Il famoso documento Non esistino I dinosauri Non sono esistiti Dice che le ossa Di dinosauri Valgono Un'autentica fortuna Sono carissimi Bene Gli dice che Sono carissimi Le ossa di un tirannosauro Un tirannosauro Srex È stato venduto Per 12 milioni Di dollari Ma non tutto Solo alcune ossa 12 milioni Di dollari Bene Avete una piccola idea Di quello che Di un tirannosauro Valgono Valgono molto denaro Ebbè Sono dinosauri E quindi Non sono mai esistiti Scacco matto Vabbè Però ci tiene proprio La parola dinosauro Non so Proprio arriva quella parola Lui la allunga Da morire Sì sì Mio Dio Va bene Ok Allora sì Quindi Sta spiegando Come sempre Poi Quando ci sono i complotti C'è sempre questo punto fondamentale Se qualcuno ci guadagna Allora c'è un interesse Cioè se c'è un interesse Allora c'è la mano Dall'alto Non che se qualcosa È raro È difficile Da ottenere A un prezzo alto Per ovvie ragioni Ovvissime Quindi se voi Trovate qualcosa di nuovo Ragazzi Lo dovete regalare Se siete delle persone brave Esatto È interessante È sepevo Come a fare Come fare Per questo Guardate Quando parliamo di falsificazione Gli investigatori indipendenti Non hanno accesso Alle ossa Di dinosauri Ma cosa 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 significa Gli investigatori indipendenti Cioè che io Sembra quasi Che quello Che vuole dimostrare Che i dinosauri Non esistono Guardare le ossa Va tipo al museo E fa delle domande Scomode Mi fai vedere Il dinosauro No E allora non ce l'hai Esatto Che cosa significa Gli investigatori indipendenti Ah ma voi Nascondete la verità Gli investigatori Sono tutti In teoria indipendenti Però c'è chi è bravo Ad ottenere le informazioni E chi no Ma se tu vai dal museo Dici Voglio vedere informazioni No Ok Allora sei corrotto Cioè Boh Cioè Boh Boh Sei un bravissimo Investigatore evidentemente Ti lo dico Mi sta dicendo Come no Se li ho visti nei musei Ho visto le ossa di dinosauri No Sono falsificazioni Repliche Non sono originali Gli originali Non sono esposti Sono In casseforti In casseforti Ok In chiusi Bene E appartengono Istituzioni E organizzazioni Sono dentro Chiamati musei Un investigatore Indipendente Non può Potrebbe essere balbuziente Dice L'allungamento delle parole Può essere causato Dalla balbuzia Allora io ci stavo pensando Che potrebbe essere Balbuziente Per carità E non vorrei Prendere in giro La balbuzia Di per sé Perché Ovviamente Per ovvie ragioni Si uno è balbuziente Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è problema E non è quello Il punto Il punto è che Anche se Fosse balbuziente Ha deciso Di doppiarlo Lui Video Uno Non avendo Non avendo uno script Rimangiandosi le parole Perché uno può essere Balbuziente Ma fare un discorso Sensato Semplicemente Si blocca ogni tanto Per le parole Non c'è nessun problema Ma qui È che Ogni due parole Ricambia il senso Della frase In non finisce Le parole O cambia la parola Cioè Non è il balbuzia Il problema Se ci fosse È un altro tipo Di problema Che è a monte Vabbè Cedervi Bene Alla data di oggi Un investigatore Indipendente Non ha mai visto Il cranio Di un dinosauro Cosa vi sembra? In che senso? Quello che vedete Nei musei Sono repliche Effettuate Con degli agglomerati O con Con delle resine Sintetiche Che simulano Molto bene Le ossa Incluso Le pietre Tagliate Simulano bene Le ossa Incluso Le pietre Tagliate Simulano Le pietre Tagliate Il senso logico Troverà Poi Invisce Per essere Quello Oh mio dio Oh mio dio Wow È un trip Pazzesco Raga Peggio Della droga Ve l'ho detto Ok Vi prego Andiamo avanti Oh c'è Un immaginario Pazzesco Quando ci sono Ste cose La cassaforte Super segreta Loro mettono I dinosauri In cassaforte Ma me li fai vedere No Io vi posso dire Che sono stato Un sacco di volte Sia in In Laboratori Penso Definibili Paleontologici Non erano paleontologi Loro Studiavano altri aspetti Però avevano Delle ossa Di dinosauri Quindi li ho viste Ed erano buttateli Su un piano Su un tavolo Tipo Tavolo operatorio Come viene definito Rattopanza Benvenuto E Lo stesso vale Per dei musei Io sono andato Dietro le quinte Di molti musei E lì c'erano Le ossa Di dinosauri Che stavano venendo Tipo Non lo so Inviate Per altri musei Per essere studiati Inviati in altre istituzioni Per essere studiati Datate E quant'altro Scannalizzate Oppure Boh C'erano là Però non ho mai visto In vita mia Una cassaforte Né tantomeno Una cassaforte Grande In cui c'è Il Dinosauro Dentro Però Vedi Nell'immaginario La cassaforte Funziona Perché c'è qualcosa Di segreto Di mistico Di Da dover tenere Nascosto Là dentro E quindi Ci sta bene Nella cassaforte Ci tengono I progetti Del 5G Giustamente Ok Quello che vedete Nei film Nei libri Eccetera Sono Interpretazioni artistiche Nessuno Sa come furono Questi animali Realmente O se realmente Arrivarono A desistere Ehi Siamo Siamo d'accordo Con lui Ragà Facciamoci un applauso Abbiamo trovato Un punto D'incontro Per una volta Siamo d'accordo Con lui Bravo Ha detto Ha espresso Il nostro pensiero Bene Vi do un dato Sapete quante ossa In questo momento Si sono Sono state trovate Di grandi dinosauri In questo momento Alla data di oggi Tre Solo 12.005 ossa 12.005 Nessuno mostra Una struttura completa Non c'è mai Una struttura completa Non esiste Un Terranosauce Rex Completo E invece Ne esistono più di uno Ma dettagli Va bene Va bene 12.005 Minchia Non ho contato Ma intenderà 12.500 O 12.005 Proprio No Penso Cambia Perché lui ha detto 12.005 E poi ha ripetuto 12.005 Quindi ci credo Devono essere 12.005 Anche se È un numero Un po' troppo preciso Per essere Tu dici Più di 12.000 12.005 Con una precisione Virgola 2 Mamma mia Vuol dire che ha fatto Le sue ricerche Ha fatto le sue ricerche Unimusei O nella pellicola Jurassic Park Non ce n'è Ah Non ce n'è Willy Jurassic Park Era finto Gnè 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 Mangaccio E niente Qui casca l'asino Lo vedi Di questa specie Tirannosauri Si sono trovati 15 ossa Incompleti Molto incompleti Solo 15 Molto incompleti Ci sono più tirannosauri Adulti Più o meno completi Più di uno Quindi tranquilli Uno era esposto Allo Smithsonian Se non ero pure visto Non mi ricordo Comunque se cercate Scotty Su Altri dinosauri Sono mai trovate Stan Stan C'è un calco di Stan Anche al museo Di storia naturale di Milano Per esempio Ok Stan è il nome del dinosauro Sì è il nome dell'esemplare Che bello che gli danno sti nomi Nickname Diciamo L'esemplare Il suo nickname su youtube Stan Sappiamo Ci raccontano Perché un disegnatore Lo ha disegnato Pensando che fosse così La testa così Eccetera È una pausa più lunga Sono interpretazioni Ok Che come ho detto Bene Andiamo a vedere È come Capite il concetto È come se Prendete un cane Un gatto Le ossa Un cane Un gatto Il cocodrillo Un cocodrillo Una giraffa L'ossa di una vacca E fate una giraffi vacca dinosauro Mio dio Ho capito cosa vuole dire Ma l'ha detto malissimo Mio dio Assurdo Ridicolo Però È sì Un pochino È così La giraffi vacca dinosauro La giraffi vacca Allora io comunque Finalmente Dopo aver studiato Il suo stile di lettura Sono giunto La conclusione Che sì È balbuziente Ma Lui sta leggendo Effettivamente I sottotitoli Generati automaticamente Sotto il video Del canale originale Quindi Oltre ad essere A cazzo di cane I sottotitoli originali Perché ovviamente Youtube Non li mette mai bene I sottotitoli A volte lui Non riesce a finire La frase Che cambiano i sottotitoli E quindi Deve andare La frase successiva E quindi Un sacco di frasi Sono incomplete Mi sa Questa è la spiegazione Più prossima La realtà Che io mi sento Di Diciamo Di appoggiare Sono state Raccolte Ossa Che pensano Che sono Dello stesso Se non lo sa Ora li hanno messi insieme Come hanno potuto Questo qua Questo là Li hanno forzati E hanno creato qualcosa Bene È arrivato un artista E ha detto Io credo che fosse così Ma è così Come lo sto dicendo Spero di no Sarebbe terrificante Però vabbè Guardate In Cina C'è una fabbrica Di ossa False Classico C'è una Che questo Oh ma la Cina Mannaccia La miseria Oh sta sempre in mezzo Sta cazzo di Cina Sempre Made in Cina Pure i dinosauri Dicono che i dinosauri Sono finti Li fanno Le ossa finte là Ma perché in Cina Poi perché c'è proprio Ma poi come se li facessero Solo in Cina Le repliche Delle ossa di dinosauri Cioè vabbè A parte quello Comunque In Cina Ci sono molte cose Bene Anche ossa fatti Eh guarda Ma è grande Ci sono molte cose In Cina Questa è un'affermazione Un po' forte Mi senti di dire In Cina ci sono molte cose Un pochino forte Come affermazione Però vabbè False Olsa fatti Di dinosauri La fabbrica si chiama Sigondinosinart company Nel Sichuan Nella provincia Di Sichuan In Cina Bene Fanno le osso completi E le vendono musei E lo fanno Iperrealistico Iperrealistico Bene Non 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 riuscite a capire Se sono ossa Vero o no Di diversi animali I cavalli Prende l'osso Di diversi animali I cavalli I vacche E fanno un agglomerante E con una pasta Mettono insieme Una pasta ossea Per creare queste ossa Poi il pesto Una pasta ossea Vabbè Per renderla più credibile No Non credo manco Che sia così complicato Riprodurre in materia Delle ossa Perché alla fine Più che altro Usano resina o altro Un calco di un osso Anche bene lo fai Nel senso Si stanno a fare Non è un procedimento Difficile Però vabbè Raccontato così È terrificante Ti potrei raccontare Con fare complottista Come ho bevuto l'acqua Stamattina L'importante è che ci metti Enfasi e dice Ha afferrato il bicchiere Con due dita E si è guardato intorno Poi ha messo la mano Sul rubinetto E lo ha girato Ma non Dalla parte Dall'acqua calda Dall'acqua fredda E quindi In alcuni musei Sapete quello che dicono Cosa dicono? Dicono Questa è Imbresa Eh dimmi Imbresa Dicono Più del 62% Della nostra produzione Va ai mercati americani Ed Europa Questo è quello che dicono No Dicono che molto Molte di queste ossa Le fanno In base a quello che disegnano gli accademici cinesi Creano una rete globale di vendita per Russia, Cina, America, Indonesia, Thailandia, Vancouver In tutto il mondo Stanno vendendo ossa in tutto il mondo Falsificati Che sono quelli che vedete nei musei E non vedete cose vere Bene Guardate quest'altro dato curioso Che casualità Vicino a questa fabbrica Nel Sichuan Cominciano a apparire dinosauri Resti dinosauri con piume Qualcosa che non si era mai visto prima Questo negli anni 90 Hai qualcosa a dire riguardo Beh si capisce dove vuole andare a rimare Dove vuole andare a parare In Cina sono sortiti fuori tutti questi dinosauri con le piume tutti insieme Guarda caso lì c'era la fabbrica Si capisce benissimo dove vuole andare a parare Abbiamo già sentito questa storiella tra l'altro Molto vicino alla fabbrica califalsifica Si trovano Abbiamo trovato Ossa di dinosauri con piume Cosa sospettate? È casuale O vogliono ampliare il loro catalogo di dinosauri? Io non immagino Il capo dell'azienda Il capo dell'azienda Che dice ragazzi I nostri dinosauri sono un po' post datati Dobbiamo crearne i nuovi Collezione autunno-inverno 1900 Dicono in chat Dicono in chat Di a Barbascua di farmi VIP Così posso rispondere immagino ai commenti Senza aspettare il La pausa Tra un messaggio e l'altro Ah tu? Tu? Parli di te? Sì Ah certo Se ricordo come si chiama Tu si chiami Zosparco Sì Slash VIP Zosparco O è VIP slash Ma che dove sia Slash VIP Slash VIP Vediamo se sono un bravo Sì Ok perfetto Grazie ragazzi Io sono ancora molto ignorante Nei confronti Infatti mi sono appena ricordato che Mi avevate detto di cambiare una cosa E che non ho cambiato Perché me lo sono dimenticato Devo mettere delle notifiche nuove In effetti Perché a volte non mi esce Va bene ragazzi Non è funzionato Però vabbè guarda Vabbè basta che ci sei Funge funge C'è anche il cristallino Vedi che bellino Davvero? Non ce l'ho adesso Forse deve ancora attivarsi Vabbè Comunque Vabbè Insomma Andiamo a vedere cosa succede Davanti Andiamo avanti Andiamo a continuare con il problema dei sauri C'è uno abbastanza importante E la prima cosa è che Voi pensate alla Voi pensate alla dinamica del loro corpo È assurda Questo non ha detto vari esperti Ok Dovrebbero avuto molto Dovrebbero essere andati molto lentamente Molto meno di quello che dicono I film I film di Hollywood Però E continua a tirare fuori i film di Hollywood Come una fonte autorevole Capito? Eh sì sì Vabbè insomma i film di Hollywood Lui deve essere uno dei più delusi Eh sì Mi sa Ho avuto tantissimo i film E gli piacevano da morire Quando ha scoperto Mi sa Mi sa Vabbè Stanno scrivendo Capitano secondo me Comunque sta traducendo male Dallo spagnolo in diretta Visto che ha tradotto Carlo Sì è possibile L'ho detto Probabilmente è quello che gli sta dando Youtube stesso Dal video originale Anche se Cioè È veramente un livello di pressapochismo Esagerato Veramente Perché Se Comunque Sai che devi doppiare un video Ti fai un testo Te lo interpreti E se Sbagli a pronunciare delle parole O Non riesci a finire una frase O Ti esce male Qualsiasi La ripeti Semplicemente Ripeti Poi lo monti Cioè Invece qua c'è un livello di pressapochismo Che è devastante Pro Ma li obbligava a essere molto più rapidi Più veloci La biodinamica insomma È la loro enorme massa Impossibilità loro di essere rapidi Però L'ecosistema Li obbligava Ad essere Ad esserlo C'è una incompatibilità Lui dice praticamente Che L'ecosistema Li doveva Li obbligava Ad essere veloci Però in realtà Non erano così veloci Quindi sta cosa non è compatibile Ma a parte che Non è detto che Li obbligava a essere veloci Anche se fosse No anche perché Cioè la cosa che Non erano veloci Ma in Jurassic Park Sì è pure vera Però Non ha senso Cioè perché Non puoi vivere Se non sei veloci Infatti Mi vengono in mente Moltissimi animali Che non è che siano veloci Come Cioè c'erano animali veloci E altri che non sono veloci C'erano girosauri Che erano veloci E girosauri Che non erano veloci C'è niente di strano Fra quello che pensiamo E quello che ci mostrano Dillo a Jurassic Park Con le pellicole Ok Sempre là Sempre là Se mai questa realtà è assistita Guardate cosa Guardate come potrebbe essere Complicata La Biomobilità di questi animali Perché è un grande problema La viabilità Come un veicolo Per poterli montare Ci sono studi che dicono Che la cintura Se si fosse mossa Il loro bacino Se avesse fatto Certi movimenti Si sarebbe Fracassato Mio dio Lui ha tradotto La cintura Come la colonna vertebrale Eh mi sa La viabilità La viabilità Come la mobilità Forse fianchi Non lo so come si dice in spagnolo Però immagino Intendesse tipo Non lo so Eh beh sarebbe Come si dice in spagnolo Non so lo spagnolo Ma Sì che poi sta cosa Della serie Che è una cosa Che casca in terra Muore Lazzi Ah no Aspetta Io credo che lui Stia ancora parlando Di rimontare Gli esemplari Proprio i pezzi Perché qua c'è la parola No perché lui dice No dice Propriamente La loro anatomia è assurda Perché dice Se avevano fatto Se facevano dei movimenti strani Si rompevano Cosa non vera Perché ragazzi Se uno nasce E fa movimenti strani Vai tranquillo L'estinzione È quello E l'aspetta Se a muoverti Ti stronchi Ah mi scrivono In chat Che effettivamente Cintura in spagnolo Significa bacino Quello è quello Allora perfetto Muovendo la cintura Non c'è una canzone Infatti Gli animali Perché è un grande È un grande problema Per poterli Poterli montare Ci sono studi Che dicono Per poterli montare Mi dava l'impressione Che stava parlando Era un problema Non ci potevi salire sopra Non potevi Cavalcarli Capito Non esistevano selle Abbastanza grandi C'erano delle selle Che potevano Rangerti bene La cintura Se si fosse mossa Il loro bacino Vedi la cintura La sella Ha tutto senso Poi mi sono perso Se avesse fatto Certi movimenti Si sarebbe Fracassato La massa Non poteva sopportare La massa di questi animali Vedete Alcuni anni fa Si commentò In certi circoli scientifici Che si era Estratto sangue Di un dinosauro Che si trovava dentro A una zanzara Che era stata Intrappolata Dall'ambra In certi circoli scientifici È la trama di Jurassic Park In certi circoli scientifici Andiamo avanti Vediamo dove va Ma questo qua Deve essere delusissimo Quando ha scoperto Che Jurassic Park Era finto E ci ha dedicato La sua vita Adesso è dedicata A dimostrare Che i dinosauri Non sono mai esistiti Se non posso avere I dinosauri Come li ho sognati io Allora non sono mai esistiti Punto e basta Vi ricordate I Jurassic Park Eccolo L'ho detto Che dentro Una zanzara Avevano estratto sangue E trovavano Si era trovato sangue Di dinosauri Perché queste zanzare Avevano punto I dinosauri E erano stati Intrappolati Nell'ambra Ok Dopo milioni di anni Si era trovato il sangue Bene Si è scoperto Che era falso Non è mai stato vero Era falso Ma chi l'avrebbe mai dire Ma si che è falso Io provo Una tenerezza devastante Io vedo un uomo Distrutto Dalla Dalla rivelazione Qualcuno Gli ha proprio rovinato La vita Quando gliel'ha detto Guarda che Jurassic Park È una dinamica vera No Non era vero Gli ha rovinato la vita Cioè lui Tutto sto cazzo È là Che vuole andare a parare Vuole andare a parare lì Jurassic Park è finto Ragazzi Aprite gli occhi Trovato sangue di dinosauri Dentro delle zanzare Non è mai successo Che hanno trovato sangue Di zanzare Mi hanno preso in giro Ragazzi Mi hanno preso in giro I dinosauri non sono stati clonati Dei moscerini E un'altra cosa curiosa La datazione dei dinosauri Presenta grandi lacune Voi non credete Non credete Alla data di Dio Quello che fanno È datare Gli strati O le pietre In cui si trovano le ossa Che è ben diverso Si va a capire ragazzi Però Se la roccia Qui si sta parlando Di cosa Non di sedimenti Quaternari Che spesso e volentieri È poco più Che sabbia Con ossa in mezzo Cioè Sedimenti mesozoici Spesso e volentieri Sono blocchi di roccia Consolidata In cui dentro Ci sono le osse Le ossa A volte ci vogliono Degli anni Per tirarle fuori Facendo dei bagni In elementi chimici Che pian pianino Dissolvono una roccia Ma non l'osso Quindi Cioè anche Ok Ma Qual è allora La spiegazione Cioè ce l'ha messa qualcuno E quindi non va bene Come fai a metterle Dentro una roccia Già formata Le osse Datata comunque Cioè Non lo so Questa è una prova Contro i lui Scusa Se dentro una roccia Che tu dati Essere di un certo periodo storico Come fai a dire Poi il resto È falso Vabbè Comunque Il problema Che io vedo qui È che lui ha fatto Un video di 22 minuti Dove lui parla A ruota libera Però in pratica Estenuante Tra l'altro Come? Estenuante Tra l'altro Estenuante In italiano È estenuante Magari quello in spagnolo È più affascinante Però il discorso Che a me Non smette mai Di stupire È che in 22 minuti Sembra che lui Abbia detto Un sacco di cose Ma è raptato Le riassumeva In 7-8 minuti Se parlava per bene Tutto tranquillo Così Secondo me Ma tra l'altro Non ha detto un cazzo Capito? No, no Se tu metti in fila Le informazioni Che lui ha portato Proprio nel video Non ha detto niente Non ci sono dei dati Non ci sono dei No, assolutamente Non c'è niente I conti sono i film È proprio la classica Il classico video Che tu fai per sentito dire Quando non hai niente In mano Però c'è un altro Più studiato Che ti ha raccontato Una cosa Tu fai il video E dici cose Che ti ricordi A cazzo di cane Con la gocciolina Di sudore Sperando che nessuno Si accorghi Che tu non hai idea Di che cazzo Stai dicendo E quello Mi sta trasmettendo Questo signore Capito? Boh Perché Sono tutti così Sti video Che parlano Di roba assurda Sono proprio roba Superficiale Prendendo informazioni A cazzo di cane Ma non mettendo i dati Facendo cherry picking Riportando informazioni Che non esistono E certo Boh vabbè Non datano le ossa In realtà Noi ci rendiamo conto Che tutto quello Che sembra Sapere dei dinosauri È sostenuto Da fondazioni scientifiche Che quasi sempre Sono molto Mediatiche Come Hollywood Comunque gira rigira Gli scienziati Sono dei pezzi di merda Sempre E Hollywood È una cosa scientifiche E Hollywood È collegata Gli scienziati Ricordiamolo Che poi Boh Io non riesco a capire Una cosa Ok Te le do a te Te le do a te Le ossa Cosa cazzo Cioè Grazie a cazzo Che sono gli scienziati Ad avere le ossa E a studiarle Che cazzo mi significa Te le devo dare a te Ma che cazzo Non sai cosa farne tu Non si manco Per sotto bicchiere Perché le vuoi tu Cosa cazzo Cioè Vabbè Cominciate a pensare A fondazioni scientifiche Molto immediate Non supportate Dai media Molto spettacolari Molto spettacolari E la gente Si sorprende Con la luce al neon Per vedere questi Documentari Impressionanti In che senso Perché c'è la spettacolarizzazione Della cosa E poi perché ovviamente Dio Dei momentari Fanno vedere la roba bella Però ti diciamo È tutta un'invenzione Le luci al neon Inventate anche quelle Degli scienziati Perché non torniamo al fuoco Anche Hollywood Da piccoli Da piccoli Ci ha messo in testa L'idea Di questi dinosauri E alla fine Niente E' là che va a sbattere Questa cosa Non va giù Cioè Gli ha rovinato la vita Sta roba Mannaggia Tra documentari Fumetti Libri Non so che altro Ci rendiamo Che ci hanno messo in testa Che questa È un'idea Irrefutabile Noi pensiamo Che è un'idea Irrefutabile Perché ci hanno detto Tante volte Con insistenza Che pensare Che è una bugia È praticamente impossibile È stato Lo sguardo Siamo Talmente Duralmente Marcati Che se Smentiamo questa cosa Ci dicono Che siamo pazzi Bene Io non sono pazzo Sto vedendo un articolo Come ho detto prima Che tra l'altro È la cosa Che direbbe un pazzo Però Comunque È quello che stavo pensando Ragazzi Non so cosa state pensando Che io sia pazzo Ma io non sono mica pazzo Vabbè Comunque Mi stavo facendo Mi stavo chiedendo una cosa Chissà se lui Lo spagnolo Lo sa Che esiste questo video In italiano Non lo so E chissà come lo Lo prenderebbe Lo scopri Che è stato Doppiato in questo modo Mio Dio Un documento E comunque ha detto Io non sono pazzo Ho letto un documento Però in realtà Uno Non ci ha dato nessun documento Voci di corridoio Cose C'è questa dita Non ci va Vabbè La maggior parte Di questi dinosauri Questo è curioso Furono scoperti Nel 1923 Si cominciò allora A scoprire dinosauri Dal 1923 A oggi Solamente Quattro Grandi dinosauri Sono stati scoperti Ma mai nella vita Ma mai nella vita Guarda un pochino Che bello Questa è una tabella Che è stata presa Da wikipedia Perché è proprio quella Però non c'è la fonte E non sappiamo Di che cazzo Stanno parlando Cioè questa tabella A che pagina appartiene Esatto Alla pagina Soprattutto È una tabella Di cosa Cioè dei dinosauri scoperti Dei più grossi In base all'anno Cioè non si capisce neanche Cioè questo è il modo Di riportare i dati E poi ho capito Prendo E questo potrebbe essere Tranquillamente Gli anni di uscita Degli ultimi Non lo so Transformers Non lo possiamo sapere Capito E vabbè però È una tabella Tutto il resto Viene dietro Che casualità Che strano Figuratevi Oggi l'uomo però Ha più mezzi Informazioni Sta Geolocalizzatori Più globalizzato E ne appaiono meno Non è vero E questo momento di pausa In cui dice Scaccomatto Lì lo stava pensando C'era bene gli occhi Scaccomatto con l'esplosione Ne appaiono Adesso che è Globalizzato E geolocalizzato L'uomo Ne appaiono di meno E' vero 1923 Oggi solo 4 E' tutto un inganno Si sbagliarono In qualcosa Quando Quando Si sbaglia Geofield Quando afferma Che non sono mai esistiti Nel suo documento Noi non affermiamo Ne smentiamo Siamo solo Siamo solo No non lo dire Una trasmissione Ma no Questa è la puttanata finale Della retorica Ma sempre Con questo Si parano Tutti il culo Di qualsiasi cosa Stiamo parlando Cioè della serie Ma guarda ma io non è che Prendo posizione Io ti sto mettendo i dati lì Cioè si fa per parlare Naturale Naturale Ciao Florio 81 Benvenuto Eh Sì ma no Io non c'è Questa frase Non la sopporto più Veramente Eh no È fastidiosissimo Prima mi mettono Portano le tesi Verso una direzione Dicendo è così Cioè praticamente dicendo È così E poi dicono No ma non sono io a dirlo Io sono così E poi dicono E poi la scienza Funziona così Va avanti per dubbi Cioè gli scienziati Che dicono No non può essere così E liquidano la cosa Come una cazzata subito In realtà Vanno contro la scienza Perché la scienza Funziona per dubbi No è mettersi in discussione È vero Però ecco Facciamo un esempio Questa è un'informazione Questa è un'altra informazione Le mettiamo in fila Per andare avanti No così Quindi ci passiamo Dall'informazione precedente Per andare in fila Se una si rivela Non azzeccata per i dati Prendi una via diversa Per andare avanti Ma se io ho questo percorso E decido Di ignorare completamente tutto O semplicemente Non lo conosco Perché non lo conosco E riparto da zero E mi creo La mia teoria super figa Che però Non ha nessun fondamento E non ha nessun senso Con tutte le informazioni Che già abbiamo Allora Questa bella teoria super figa Te la puoi raccontare Al baretto Con gli amici Dopo l'ennesimo bicchiere L'ennesimo caffè corretto E nessuno ci aveva problemi Mannaccia internet Questo è il problema È il problema di internet Stiamo parlando Di quello che diceva Robin Coe No Noi non stiamo dicendo Che non esistono i dinosauri Non sono mai esistiti No Però dico soltanto Date un'opportunità A quello che racconta Questo signore Allora noi non diciamo Che i dinosauri Non sono mai esistiti Però c'è un dinosauri Con una barra così E comunque Date una possibilità A quello che raccolta Questo signore Che per parentesi Dice che i dinosauri Non sono mai esistiti Però voi dateli Una possibilità E chiacchierà Realmente non sono mai esistiti È tutto un gran inganno Un affare Come tutto nella vita Eh Eh Chiediamocelo O se sono esistiti Tutto questo È una paranoia Pensate Pensate da voi stessi Con la vostra testa Se siete un po' Osservatori Però noterete qualcosa di strano Tipo Bene Non voglio insistere di più Abbiamo Te la lascia lì Molti dati Perché voi potete Qualcosa di strano Vabbè lui è così No io non sto dicendo La mia teoria Però Vuoi davvero credere A questa cosa Che ti hanno raccontato Che comunque Puzza di merda Che schifo No ma a te questa cosa Non piace Questa cosa è brutta Oppure vuoi credere A questa bella nuova teoria Bellissima Che fissima E io comunque Non sono pazzo Io ve le metto qua Scegliete voi Però attenzione Che questa è più bella Vabbè Bellissimo Considerare Una proposta alternativa Alla versione ufficiale Che ci raccontano Né più né meno Bene 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 Cosa vi è successo? Bene Nessuno Ha assistito però 65 milioni Anni fa Per comprovare Allora Allora Ma cosa? L'ho fatto davvero Mio Dio E' della serie Tipo La discussione Tipo Finita e poi Comunque ragione io Le discussioni Tra bambini No vabbè Questo Questo è bellissimo Questo è bellissimo Io non sono qua Per dire Se ho ragione o torto Per carità Comunque non sono mai esistiti Esatto Non ho mai esistito Bellissimo Che sono esistite Che sono esistiti Ho detto tutto Arrivederci nel prossimo video Arrivederci Arrivederci Senti Non vi sentite ripuliti Ragazzi Adesso Avete spurgato Tutta la La negatività Che avevate dentro La negatività Molto zen Adesso Il pessimismo Io voglio vedere una cosa Questo canale Ha altri video E sono Sui dinosauri Dicevano in chat C'era un video Io non lo so Leggevo in chat E c'era un video Sui dinosauri Sarene estinti Per le radiazioni Ed è curioso Perché c'è un video Che dice I dinosauri Non sono mai esistiti Quindi Oppure parlava Del video spagnolo Non lo so Questo Anche perché C'è salti in bocca In mustard lamb Non so che cos'è No Aspetta un secondo Qua c'è Flat earth revealed In cartoon movie La terra è piatta Rivelata in un In un cartone animato Aspetta voglio vedere Giustamente Ah no Questo è proprio Freebooting Questo è semplice Semplicissimo Freebooting Vediamo se troviamo Qualcos'altro Io voglio vedere Qualcosa In cui lui parla E Cristo 2017 Smascherata al 100% Smascherata Trovate Vive e vege Delle persone Dell'equipaggio Dieta sull'acqua Voglio vedere se è lui La dieta di isola acqua Ah è lui Che consiste È lui Nel Effettuare una dieta Pulificatrice Di cui si sente spesso Parlare È lui proprio Eh mi sa Non lo so Con totale mancanza Di cibo No è doppiato anche questo Mi sa L'una cosa che farò Sarà bere dell'acqua No no Non è doppiato Però sembra diverso Voglio sperimentarla Per sette giorni Vediamo L'effetto Strano Quelli lui Voleva fare la dieta Dell'acqua Per sette giorni Questo è Ragazzi Io lo aggiungo Alla mia Ai miei video Da vedere assolutamente Più tardi Devo assolutamente Sapere Come è andato a finire Secondo giorno Secondo giorno Sono dimagrito Ebbene Chi l'avrebbe detto Grazie al cazzo Va bene No niente Però Mi piace anche per la musica A meno questo va detto Non sia sotto copyright Sennò Twitch si arrabbia Non si fa sentire musica sotto copyright No no va bene Va bene No no raga Va benissimo Ragazzi Io Vi devo lasciare Perché poi c'ho da preparare la live Per stasera Sì Ragazzi E quindi tipo Vi lascio Scusate ragazzi Ma devo un attimo Mangiare qualcosa E poi Preparare la live Quindi scusate La fuga Tra virgolette Scusa anche De barba No no ma che va Io ti avevo detto Un'ora e mezza Tra l'altro No figurati Ma non avessi Da fare null'altro Dopo Sarai rimasto Anche due ore e mezzo No ma non ti preoccupare Intanto la chiudiamo La chiudiamo qui La live Ne approfitto per giusto Per salutare Cheppo del quartiere Ricosh Benvenuto Grazie mille Volevo decretare No no ma va La stavo comunque chiudendo Te lo dico Non ti avrei tenuto In ostaggio ulteriormente Anche perché Il senso del nostro video L'abbiamo già dato Le nostre Diciamo La spurgata L'abbiamo fatta Siamo liberi Siamo delle persone nuove Ci sentiamo meglio Io vado a mangiarmi un ghiacciolo E niente Guarda Willy Ti ringrazio da morire Per averci fatto compagnia Per averci fatto scoprire Perché tutto ciò È stato colpa di Willy Mi ricordo che stasera Prendo la responsabilità Stasera Willy fa una live Alla 21 Quindi se siete interessati Esatto Grazie mille Lo trovate Tanto basta che cercate Zo Sparkle Lo beccate E nulla Allora ci vediamo Prestissimo Quindi ci vediamo Venerdì Come sempre alle 18 Un saluto Un saluto a tutti Da Zo Sparkle Willy Grazie mille Grazie mille Grazie mille Ormai Ormai Le parole non hanno più senso Ormai Sono perso E ovviamente La barba scura X Grazie mille Grazie mille